Siamo appena prima della partenza della finale contro Zesuv e siamo pronte a questa lunga battaglia e vogliamo prendere questa coppa. Sicuramente sarà molto difficile, loro sono un'ottima squadra che giocano unite con tanta grinta e voglia di vincere e anche a noi non manca questa cosa qua soprattutto ultimamente che abbiamo preso l'equilibrio e che stiamo giocando meglio però loro non hanno mai vinto il campionato e sicuramente hanno tanto da dimostrare che valgono però noi dobbiamo far vedere che siamo Chemik Polizia e che siamo la squadra migliore in Polonia. Penso che chi non sa giocare a questi livelli sotto pressione non deve essere in squadra quindi sotto pressione queste partite qua sono le migliori partite da giocare e tirano fuori il meglio di noi l'adrenalina e la grinta, quello che dimostrano non soltanto la tecnica e la tattica e quello che sarà decisivo è domani chi vorrà di più dimostrare che è più bravo quindi sotto pressione io sinceramente funziono meglio e mi piace giocare tanto si vede tutta la mia voglia e la mia passione quando sono sotto pressione rispetto alle partite che sono magari di regular season che devi solo giocare perché comunque ti servono i punti però non è che contano tantissimo questa è una bella partita che farà vedere il meglio di noi grazie 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 grazie